... Pronto? No, non ha sbagliato il numero, sono la persona giusta a cui chiederlo. Mi sta chiedendo che cosa sono le telecomunicazioni. Un attimo, un attimo. Dall'altra parte della cornetta mi chiedevano che cosa sono le telecomunicazioni. Non è facile rispondere, se non cercando l'etimologia della parola. Tele significa distante e comunicazioni vuol dire comunicare. Telecomunicazioni vuol dire comunicare a distanza. Naturalmente tutto questo si fa con la tecnologia. Nel 1844 Samuel Morse inaugura la sua prima linea telegrafica, la Baltimore a Washington. Da quel momento, e quindi quasi per 30 anni, tutti gli inventori del mondo cercano di svincolare la telegrafia dal tasto e dall'alfabeto Morse, che è comunque un alfabeto che traduce il nostro linguaggio in un codice. Tra i tanti inventori che lavorano a questo progetto c'è Antonio Meucci, il nostro connazionale, che sembra che alla fine del 1859 inventi il primo telefono della storia. Sarà però soltanto belle a brevettare questa invenzione, nel 1876. Da quel momento avremo a disposizione un nuovo strumento, quello che permette di parlare direttamente nella cornetta e farsi ascoltare anche a chilometri di distanza. Il telefono. Ho appena scritto, ciao Muco Pallino. Ciao. Eh, anche oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata. A te l'onore di scegliere il finale, come lo vuoi. Esplosivo. Oh no! Oh no!